La mamma è tornata a Boston. A Boston? A fare che? Non lo so, e papà dice solo non preoccupatevi. Forse è tornata per vedere quel succhiaccazzi di suo padre o per godersi l'autunno. Credo di averla spaventata. Mi ha sorpreso in un brutto momento. Brutto momento? Ti stavi facendo la sega? Connor, se Dio non l'avesse voluto ci avrebbe dato delle braccia più corte. È naturale. Grazie, nonno. Ma per l'amor del cielo, chiudi a chiave la porta? Ginger!